Amici e amiche di Sportme, benvenuti dal Buonanno per la terza giornata del campionato Under 17 provinciale. Sono di fronte Messana e Riviera Nord. Messana che si schiera con Cristian Arena, Lucchesi, Celona, Di Pietro, Bosco, Antonino Arena, Paratore, Mondello, Spadaro, Oteri e Tavilla. Risponde il Riviera Nord con Prugno, Tripoli, Majorana, Drago, Fiumara, Sofia, Samarelli, Sorrenti, Papa, Caselli e Maisano. Dirige l'incontro il signor Francesco Carrieri della sezione di Messina. In attacco la Messana, pallone che arriva nella zona di Tavilla, la Pozzangra ferma la sfera, poi Tavilla conclude, pallone fuori. Recopra un pallone la Messana con Di Pietro, che manda in porta Spadaro, in seguito da un avversario, ancora Spadaro, la sterzata in aria, Spadaro col tiro a giro. Vicinissimo al gol del vantaggio la Messana, con un pallone per la Messana, Ingrao corre a sinistra, in seguito da Fiumara, Ingrao mette in mezzo per Spadaro e il suo tapin è decisivo. Vantaggio della Messana, rivediamo il cross di Ingrao, il tocco morbido di Spadaro per l'1-0 della formazione di Di Pietro. Riceve in aria Paratore, respinge Prugno, la sfera rimane lì, poi Ingrao, ancora Prugno, a salvare il Riviera Nord. Punizione sfruttata dalla Riviera, che entra nella metà campo avversaria. Ancora in Riviera, che ci prova con questa conclusione dal limite. Pallone che però si spegne largo. Recupera un nuovo possesso il Riviera Nord, poi lo perde nuovamente. Recupera quindi Tavilla, in seguito da diversi avversari, tocco per Spadaro, poi da Ingrao sulla sinistra, Ingrao va col Mancino. Si distende molto bene Prugno e sventa l'azione. Qui recupera Celona, che però serve involontariamente Maisano. A duello con Bosco c'è un contatto. E Carrieri dice che è calcio di rigore per il Riviera Nord. Rivediamo il contatto fra il numero 11 e il numero 5. Di fronte Cristiano Arena, parte Maisano, intuisce Arena. Ma è uno a uno, realizza il calcio di rigore Maisano. Rivediamo la sua conclusione. Aveva intuito il portiere della Messana, ma non è stato abbastanza. Cambia ancora il parziale al Buonanno. Libera il Riviera Nord. Pallone che però viene recuperato da parte della Messana. Interessante lo spunto per Spadaro, forse in posizione irregolare. Infatti c'è la chiamata di Carrieri, azione che si spegne. Qui recupera molto bene Tavilla, che è caricata alla lunga distanza. E attento, ancora una volta Prugno. Punizione lunga affidata a Tavilla, che va direttamente in aria. C'è una deviazione. Pallone che arriva nella zona di Paratore. Traversa per la Messana. Ma poi chiama l'offside Carrieri. Ancora Messana che insiste. Bosco. Pallone per Spadaro, che controlla in aria. Supera un avversario. Spadaro col Mancino. Ancora Prugno. A dire di no. Sta mantenendo il parziale sull'1-1. Punizione per il Riviera. Direttamente in porta con i pugni. Cristian Arena. Poi una conclusione. Che finisce alta sopra la traversa. Solito lancio lungo. Qui c'è un buco della difesa del Riviera. Spadaro avanza. Il pallone si ferma. Ancora Spadaro a recuperare. Va col Mancino. Disturbato da un avversario. Pallone ancora fuori. Calcio d'angolo dalla sinistra. Arriva prima di tutti. Bosco. Che fa 2-1. Ancora in vantaggio la Messana. Esulta così il numero 5. Celebrato da tutti i compagni. Rivediamo il traversone. E il colpo di testa decisivo di Bosco. Tutto solo in aria. 2-1. In fuori della Messana. Riceve Oteri. Mette un pallone morbido in aria. C'è il tiro. Ma c'è anche la chiamata di Carrieri. Calcio di punizione sfruttato da Fiumara che batte sul primo palo. Intuisce tranquillamente Cristiano Arena. Ancora un pallone utile per Spadaro che sopra l'avversario in progressione. Entra in aria. Spadaro. E ci vuole un altro intervento di Prugno. Lucchesi. Lancio lungo. Ancora per Spadaro. Inseguito sempre dei difensori. Spadaro col destro. Vicinissima la terza rete della Messana. Ancora pericolosissima con Spadaro. Riparte l'azione della Messana. Oteri in profondità da Spadaro. Vince un duello. Spadaro carica col destro. La tocca a Prugno ma non basta. Doppietta di Spadaro. E 3 a 1 per la Messana. Rivediamo il suo tiro da dentro l'area di rigore. Pressato da Majorana. Qui la tocca a Prugno ma non è sufficiente. 3 a 1 per la formazione di Di Pietro. Addomestica molto bene il pallone Tavilla. Che parte a sinistra. Ancora Tavilla. La sua avanzata. Pressato da diversi avversari. Tavilla col tiro. Esce molto bene Prugno. Poi libera la difesa della Riviera Nord. Qui va a vuoto un difensore. Recupera Spadaro che carica il tiro. Pallone largo. Calcio d'angolo per la Messana. C'è un colpo di testa. Vicino al poker la formazione di Di Pietro. Punizione lunga per la Messana. Solito pallone per Spadaro che la tocca. Respinge Prugno. Ancora Spadaro. Ed è la quarta rete della Messana. Non basta l'intervento di Prugno. Sorrenti riceve a centrocampo. Pallone profondo. Qui c'è la sponda per Maisano. Maisano col tiro. Punizione per la Messana affidata a Mondello. Che va direttamente col destro in porta. Pallone che finisce di poco fuori. Ci ha provato il numero otto. Altra punizione affidata a Mondello. Stavolta tocco morbido sul secondo palo. Arriva neanche a dirlo Spadaro. Quarto gol per il numero nove. Quinto per la Messana. Giornata indimenticabile per Spadaro. Rivediamo qui il tocco di Mondello. E il tap in col mancino. Altra opportunità della Messana. Con questo tiro dalla distanza. In due tempi Prugno. Insiste sempre la Messana. Spadaro riceve da un compagno. Supera un avversario. Ne supera un altro. Entra in aria Spadaro. Gli si oppone. Come meglio non può Prugno. Corre per vie centrali Tavilla. Vede in profondità Spadaro. Davanti un avversario. Torna da Tavilla il numero nove. Ancora Tavilla col destro. Qui c'è una mischia nera di rigore. Recupera Antonino Arena. Deviazione decisiva. E Carrieri dice che può bastare così. Messana che batte 5 a 1 il Riviera Nord.